Ed è di Battipaglia il nuovo presidente di Confagricoltura Salerno, è Antonio Costantino, ha 53 anni ed è stato nominato ieri dal direttivo. Antonio Costantino è anche il presidente del Consiglio di Amministrazione della Organizzazione di Produttori Consorzio Ionico Ortofrutticoltori, con sede ad Eboli. Il nuovo presidente di Confagricoltura è altresì consigliere delegato della Unacoa, società commerciale e agricola con oltre 140 milioni di euro di fatturato annuo. Costantino è anche presidente della cooperativa agricola Sele Natura di Eboli. Dopo Rosario Rago raccolgo un'eredità impegnativa di Chiara alla guida di questa organizzazione. Spero di farlo mantenendo fede a una tradizione che vede Confagricoltura leader tra le organizzazioni degli imprenditori agricoli.